Questa è un'iniziativa importantissima, didatticamente direi fondamentale, una best practice in Italia. Il Corico Mabruzzo ha voluto coinvolgere la scrittrice Pietro Antonio, l'ha fatto attraverso l'amicizia del consigliere Michela Ridolfi, attraverso la volontà del presidente Filippo Lucci e soprattutto la scrittrice Pietro Antonio ha voluto davvero generosamente costruire una storia che aiutasse i ragazzi, i giovani a sapersi, possiamo dire, di stricare meglio il mondo del web. In che modo? Creando una serie di percorsi che potessero in qualche misura aiutare i giovani a capire meglio l'utilizzo della rete. Anche il consiglio regionale d'Abruzzo approva e appoggia questa iniziativa con il Corecom per combattere il bullismo. Beh sì, l'istituzione regione di cui il Corecom è una delle propaggini, insomma, anche se in maniera autonoma agisce e tutela, come sapete, i cittadini abruzzesi. Anche nel campo del bullismo per quanto riguarda i più giovani, i ragazzi, soprattutto i bambini. È un'educazione che oramai abbiamo avviato da diversi anni, non è questa la prima iniziativa, ma questa soprattutto è un'eccellenza. È un bellissimo libro della scrittrice di Pietrantonio, la quale ha già avuto riconoscimenti importanti. È rivolto ai bambini, è un progetto interessante, preparato, proposto dal Corecom, dove noi abbiamo aderito, ma non solo aderito, ma anche sponsorizzato. Perché? Perché è importante ricominciare dalle giovani generazioni, soprattutto sul fronte del rispetto, dell'educazione, del rispetto verso l'altro. Ecco, c'è tanto bisogno, soprattutto, di rispettare gli altri come si rispetta se stesse. Questo libro non è un esempio, quindi un progetto ambizioso, importante. Vale la pena non solo promuovere, sponsorizzare, ma anche accompagnare lungo questo percorso di presentazione nelle scuole. Grazie.